Comissaria, colleghi, basta finning, basta catture indiscriminate di squali per asportare la preziosa e ricercatissima pinna per poi rigettare l'ingombratissima carcassa in mare. Quindi basta deroghe per permessi speciali. È quello che ha chiesto la Commissione Ambiente del Parlamento europeo, nel parere sul quale sono stato relatore e che, nonostante alcune resistenze in Commissione Pesca, domani, mi auguro, sarà confermato dalla totalità di questa aula. L'Unione europea, in linea con raccomandazioni del mondo scientifico internazionale, ha già scelto nel 2003 di vietare la pratica del finning, ma le deroghe presenti nella legislazione vigente non permettono di contrastare efficacemente questo fenomeno che mette seriamente in pericolo la supervivenza degli squali, specie particolarmente vulnerabili. Non ci sono altre strade, solo stabilendo che gli squali devono essere sbarcati con le pinne ancora attaccate al corpo, possiamo garantire un controllo semplice ed efficace del divieto di spinamento a bordo. Favorire la conservazione degli stock di squali è una pesca realmente sostenibile. Quindi il Parlamento deve sostenere la proposta della Commissione europea. Grazie.